Grazie, allora, piccolo video perché sto avendo un botto di commenti, spesso mi è capitato di gente che non riusciva mai a trovare le puntate di Attack on Titan su Vid. E cioè, ma lo sapete usare questo sito, sì o no? Sito, si va qui, you, anime, si clicca qua, io ce l'avevo già in primo piano, ma se non lo trovate, guardate, giù, in evidenza, è il primo, si clicca, episodi in giapponese, tutti qui, c'è anche questo, vedete, c'è già la 10, episodi in italiano, che spesso era proprio la parte che non uscivano a trovare, tutti qui, ma, cioè, non è difficile?